a cosa non dovrebbe mai rinunciare una donna a fare un viaggio da sosa a realizzare i propri sogni ad amare un uomo più giovane a cosa non rinuncio a prendere i ragazzi a dividere con i miei uomini i lavori di casa io non rinuncio a travestirmi sono una femmina e allora nuovoline series non rinunciare mai a essere nonna maestro che bello ma questo è il giardino dell'angelo coi baffi ero un vecchio di legno dava da mangiare agli uccelli di legno tutti ridevano ma lui era di legno e gli uccelli presero il bordo adesso col computer e mi porno li vedo tutti i giorni e mi chiedono che ho un po' di sosi ma come si fa a non essere ottimisti all'uni euro l'ottimismo è di casa c'è diocam samsung con stabilizzatore zoom fino a 800 per a 399 euro e il pc paccardiol uni euro ha deciso di cambiare gli elettrodomestici agli italiani lavatrici più grandi dentro e più grandi dentro rigoriferi più belli e a passi con belli cucine più sicure uni euro valuta il vostro euro fino a 300 euro genvi ciao l'ottimismo è il profumo da vita uè che mattacchione l'ottimismo vola orcodio i euro e uni euro city in 200 città ta 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 i professori imbambito con muller mix mi succede così sono sola in uno spazio grande metto le fragole nelle mutanotte ma poco e poi li separo ognuno per sé e quando meno se l'aspettano flur mi schio tutto e giro e mi godo il panorama e a te e a te che succede x muller mix yogurt bianco e fragole racconta il tuo viaggio su muller.it fate l'amore con marco nero aaaah se voto siss scelgo un parlamento più veloce Se voti no, non cambierà nulla all'uno. Se voto sì, scelgo una vita con meno burro. Se voto is is... Le spalle non sono fatte solo per spalmare la forfora. Sostengono i solos della tua infanzia. La pressione della popolarità. E quando sono al massimo on mass, ti spingono verso la gloria. Le spalle non sono fatte per la forfora. Shulten Headers. Chi cambia canale è un figlio di puttana.